Dialogo aperto con il presidente De Luca per una serie di progetti da realizzare sul territorio di Ponte Cagnano-Faiano. E' quanto afferma il sindaco Giuseppe Lanzara che venerdì nelle vesti di padrone di casa ha accolto il governatore per l'inaugurazione della Guardia Medica. Un'occasione per fare il punto della situazione e tenere vivo il dialogo istituzionale. Che cosa vi siete detto in privato se si può sapere? No, è stato un complimentarci a vicenda, soprattutto da parte mia, per il lavoro importante che il governatore sta facendo per la regione Campania. Sta risistemando i conti, la sanità, su alcune questioni anche il piano del lavoro, 10.000 assunzioni, i fondi regionali. Sta davvero facendo un lavoro importante e noi siamo davvero molto contenti di portare avanti delle proposte. che queste proposte si riescono a chiudere, a risolvere e a realizzare. Quindi ho già fatto a lui un elenco, tra virgolette, della spesa, come si può dire, di quelle che sono le volontà e la direzione che vuole portare avanti questa amministrazione comunale su tante questioni e tematiche per l'interesse appunto dei cittadini di Ponte Cagnano-Faiano. Il governatore ha parlato anche di un coinvolgimento di Ponte Cagnano nel nuovo ospedale che verrà realizzato praticamente a ridosso col territorio di Ponte Cagnano-Faiano. Un segnale importante è questo? Sì, Ponte Cagnano-Faiano sarà sempre di più strategica per la regione Campania e per la provincia di Salerno. Abbiamo tante sfide che ci troveremo ad affrontare. Sono convinto e sicuro che noi sapremo rispondere nel modo giusto. La regione Campania oggi sa di poter contare su un sindaco e su un'amministrazione comunale concreta che guarda i fatti, che si misura con i problemi dei cittadini, che trova delle soluzioni e delle risposte e soprattutto che si rimbocca le maniche, porta avanti con delibere, con determine, con la fatica di amministrare un comune come questo, porta avanti delle soluzioni che poi si possono subito e immediatamente, anche grazie al rapporto con queste istituzioni, con la provincia e con la regione, si riescono a portare i risultati e a fare quello che abbiamo fatto, cioè aprire in pochi mesi un presidio sanitario come quello della Guardia Medica, che era 90 anni che questa comunità ormai aveva perso.